Ho messo a fuoco il tema di questo romanzo e ho capito che quello che volevo raccontare al di là del sentimento era come le circostanze che se sono successe nel passato noi chiamiamo storia, ma se succedono nel presente le chiamiamo società e politica, influenzano la vita delle persone e per attualizzare questo tema quando mi è capitato di presentare il libro in alcune scuole mi è capitato di chiedere a dei ragazzi, ma soprattutto a delle ragazze che cosa volessero fare da grandi e una ragazza, anzi due ragazze in due scuole diverse mi hanno risposto che volevano fare i militari e allora per spiegare il tema dicevo a loro vedi c'è ecco che cosa voglio raccontare io nel libro, se tu sostenata per esempio 20-25 anni fa, ora non mi ricordo quando è uscita la legge per cui anche le donne potevano entrare nelle forze militari, tu vuoi fare il militare da grande? No, tu vuoi fare la scettrice quindi non puoi cambiare idea, puoi parlare pure tu, abbiamo un altro ospite.